Grazie mille, buonasera a tutti. È un onore per noi essere qui a rappresentare il Midi Veneto, qui con me sul palco Gio Campagnolo all'organo M, che andrà da via alla batteria. Abbiamo iniziato con un brano di Mingus, Nostalgia in Times Square, e adesso continuiamo con un mio arrangiamento di una famosissima balla, You Don't Know What Love Is. Grazie mille. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.